Ciao da Apsim, allora Allegri è completamente fuori dalla Juventus, Thiago Motta è sicuramente è completamente dentro la Juventus, che scenario ci aspetta, tante tante cose da dire, già solo accennare a questo, già solo dare questi due input, queste due informazioni, vedete quante cose mi fa scattare nella testa, quante cose che dobbiamo vivere, che possiamo vivere, quindi con calma, con calma perché tutto a suo tempo, come dice Giuntoli, diceva, a tempo debito e a tempo debito si metteranno a posto tutti quanti i tasselli, tutti i pezzettini di questo mosaico, di questo puzzle che si sta costruendo nelle settimane, abbiamo attraversato veramente in questa stagione tanti cambiamenti, tanti cambiamenti ma anche molto veloci, io ricordo ancora e ricordo ancora che fino a gennaio, febbraio, se non dicevi che la Juve aveva migliorato il suo gioco, eri un invasato, eri un talebano e quindi eri fissato, ossessionato contro Allegri e non eri onesto intellettualmente ed eri in mala fede e questo lo dicevano tifosi della Juventus che mesi prima avevano pianto o si erano disperati o si erano arrabbiati per la conferma di Allegri un altro anno, poi vai a vedere questo miglioramento nel gioco, come dicevamo non c'è mai stato, non c'è mai stato, solo che qualche settimana fa ancora, pochi mesi fa, siamo arrivati al 2 maggio 2024, non solo dovevi per forza dire che c'era stato un miglioramento ma non potevi neanche osare o viceversa, magari non potevi, non solo non potevi osare parlare di gioco insoddisfacente, qualità del gioco troppo bassa, non solo non potevi criticare ma dovevi addirittura, eri addirittura costretto a parlare di questo miglioramento, cioè bisognava andarci veramente con i piedi di piombo nelle critiche ed era all'interno della mia community, della nostra community, all'interno della tifoseria della Juventus, quindi veramente in un ambiente amico, non stiamo parlando di giornali o giornalisti o tv che sappiamo che sono sempre stati e sempre rimasti dalla parte di Allegri, lì è normale se entri e dici Allegri per me non è un buon allenatore o non mi piace come sta allenando, si sa quali possono essere le reazioni, perché va in territorio nemico, invece nel proprio territorio la tifoseria della Juventus si è scoperta, dilaniata anche solo su questo, con aggressività solo da una parte, solo da una parte, e sull'aggressività che deve restare solo da una parte, dopo ci torno, nel senso che non bisogna diventare come quelli lì, non bisogna commettere l'errore di mettersi in contrapposizione, di restare in contrapposizione, ma con un'aggressività solo da una parte non si poteva criticare, non si poteva osare criticare, non si doveva essere neanche insoddisfatti, pena l'etichetta di mala fede. Voglio richiamare questo scenario, questa situazione, per evitare che venga dimenticato, perché adesso stiamo andando velocemente verso la liberazione della Juventus, verso la liberazione della Juventus. Io ho preso questo impegno con me e con voi, anche se in questo anno meraviglioso da un certo punto di vista, ma sarà più bello il prossimo, come ha detto Allegri, ho fatto un percorso individuale, interiore, di allontanamento proprio da quella che è la tifoseria, per cui lo dico adesso a chi si aspetta da me, da Absin, qualcosa in particolare per la prossima stagione. Io per la prossima stagione ho già messo nero su bianco per quanto mi riguarda quello che voglio fare, e ci saranno delle belle cose, mi auguro, interessanti, appassionanti, che vi terranno qui, che vi faranno partecipare nel vostro interesse naturalmente, ma io non torno ad essere tifoso, punto, di qualsiasi squadra, non è che non torno ad essere tifoso della Juventus, ho smesso di essere tifoso della Juventus, ma perché ho smesso di essere tifoso, ho un approccio diverso adesso al calcio, per cui, lo dico qui, la prossima stagione ovviamente si parlerà tanto di Juventus, perché torna una Juventus, poi bisogna vedere com'è, ma si parlerà comunque anche di altre squadre. Poi bisogna vedere com'è, dicevo, perché ci sarà da criticare anche lì. Qui il problema è questo, allora lo dico brevemente perché il passaggio è fondamentale e ne stiamo parlando in questi giorni. Non è che siccome va via Allegri si può mantenere lo stesso approccio che si è avuto con Allegri con qualcun altro. Cioè, gli allegriani sono esistiti e sono stati un grosso problema, e dico sono stati perché abbiamo risolto quel problema. Come? Ignorandoli. E vi invito a farlo fin da adesso. Non entrate nelle discussioni con gli allegriani, ecco il discorso di non essere come loro, non entrate nelle discussioni con gli allegriani. Vedete che qualcuno si mostra come allegriano e sappiamo che significa allegriano. Non è un'etichetta che viene affibbiata, quindi se uno è allegriano non può fare nulla di buono. No! È per quello che fa che diventa allegriano. Poi uno può anche smettere di esserlo. Ma nel momento in cui lo è, per quello che dice, è inutile discutere. Ignoriamoli completamente. E così abbiamo risolto il problema. Così se la cantano e se la suonano, vedono che noi non rispondiamo e smettono di parlare. Si girano dall'altra parte. Quindi cominciamo ad avere questo tipo di approccio. Ma è proprio l'approccio che non può ripetersi. Non devono esistere i Tiago Mottiani. Non dovranno mai esistere i Mottiani. E lo dico ai non allegriani, perché il rischio, anche se lo schema mentale, psicologico, appartiene agli Allegriani, è che nonostante questo i non allegriani mutuino quello schema psicologico e vadano a trasformarsi in Mottiani. No! Qui bisogna ripristinare una sola cosa. Gli Juventini, cioè i tifosi della Juventus, poi ognuno a suo modo. Per quanto mi riguarda, in maniera critica. Pagina bianca, completamente bianca come la felpa che indosso. Pagina completamente bianca. Tiago Motta chi è? È un bravissimo allenatore, in questo momento del Bologna, che ha fatto un'esperienza che lo ha portato ad essere un bravissimo allenatore. Dovrà lavorare portando i suoi principi sicuramente, le sue idee, il suo impegno, la sua professionalità nella Juventus. Perché ormai manca l'annuncio ufficiale. Sì, ma di che cosa stiamo parlando? Può essere che non è Tiago Motta l'allenatore della Juventus? Sì, ma quante probabilità ci sono? Poi vediamo, però voglio dire, ormai penso che abbiamo tutti la consapevolezza che sarà così, per come ci viene anche raccontata. Infatti veniamo, brevemente, tra poco, ad Alfredo Pedullà, perché di questo dobbiamo parlare. Perché non è questione adesso Pedullà, in quanto Pedullà, e che cosa dice e come lo dice, che ci dice tanto, se lo si vuole leggere. Perché io in questi anni ho sempre cercato di far capire, ho sempre cercato di dire, di spiegare dal mio punto di vista come le notizie di mercato e di calciomercato vadano interpretate. Ma le notizie in generale, ma quando parliamo di calciomercato, a differenza del giornalismo che riguarda la politica o l'economia o altro, parliamo moltissimo di persone, persone che dicono cose. Dietro alla notizia c'è sempre quello, una persona che ha detto una cosa a un'altra persona. C'è quasi sempre quello. E allora è più facile, perché lo schema, cioè bisogna capire chi può aver detto a una persona una determinata cosa. Ok? Quindi dopo veniamo appunto al discorso Pedullà. Ormai siamo convinti di questo. Quindi Tiago Motta dovrà portare la sua professionalità. Tiago Motta sbaglierà una formazione? Critica Tiago Motta perché ha sbagliato la formazione. Sbaglierà i cambi? Critica Tiago Motta perché ha sbagliato i cambi. Sbaglierà una conferenza stampa? Critica Tiago Motta perché ha sbagliato la conferenza stampa. La squadra non gioca abbastanza bene? Critica Tiago Motta perché la squadra non gioca abbastanza bene. L'unica cosa rispetto alla quale, dal mio punto di vista, e invito tutti a fare lo stesso, ma dal mio punto di vista, poi ognuno sceglie per sé, Tiago Motta sarà esente da critiche, sono i trofei, sono i maledetti trofei. Non ce ne frega nulla dello scudetto, non ce ne frega nulla dello scudetto. Per almeno due stagioni, almeno alla terza stagione, se Tiago Motta sarà ancora allenatore della Juventus, ma ci auguriamo che lo sia almeno due anni, almeno perché qui bisogna tornare a fare dei progetti, alla terza stagione si inizierà a dire, scusa, scusaci Tiago, una coppetta Italia se ci riesci. Punto. Io sono convinto che si vincerà anche prima, però perché se si torna a essere forti poi vinci, ma soprattutto ti togli tante soddisfazioni. A livello di gioco, di prestazioni, di bellezza, anche di estetica, sì, porca miseria, sì, estetica, estetica, bellezza, non abbiamo paura di dirlo. Noi non serve neanche il coraggio, è vergognoso che debba servire, il coraggio di dire che una partita deve essere bella. Vediamo come siamo sprofondati in basso e chi ci ha portati qui? Chi ci ha portati qui? C'è un nome che aleggia, sotteso, che appena appena si percepisce, ma è quello lì e dovremmo farlo più spesso, avrei dovuto farlo più spesso, parlando di propaganda allegriana. Andrea Agnelli, Andrea Agnelli, chi gliel'ha fatto il contratto? Chi l'ha richiamato? Chi l'ha tenuto lì? Andrea Agnelli. Dopo ci sono le responsabilità di Elkans, Canavino, Ferrero, è giunto lì, ma le abbiamo ampiamente analizzate, ormai abbiamo capito che Allegri è stato esonerato il 7 giugno 2023, vi ho fatto un video apposito su questo recuperato, se non l'avete visto, c'è dentro un'interpretazione verbale e non verbale, c'è un'interpretazione psicologica, c'è un'interpretazione anche numerologica, solo che non potevano esonerarlo, non potevano mandarlo via in quel momento, ma in quel momento avevano già deciso di mandarlo via, posticipando poi l'evento, posticipando l'accadimento, posticipando la formalità a un anno successivo, perché in quel momento non c'erano le condizioni economiche per mandarlo via, adesso ci sono. Poi, Giuntoli non piace per mille motivi, si critica aggiuntoli, va benissimo, i giocatori non piacciono, c'è chi gioca male, si critica, assolutamente, esigenze altissime, aspettative altissime, tranne per i trofei, tranne per i trofei, e non per ripicca, perché gli Allegriani hanno accettato tre anni di nulla, perché il nulla di questi tre anni non sono stati neanche i trofei, è stato il gioco, sono state le prestazioni, ma per un discorso proprio di coerenza e di rispetto per la professionalità di Tago Motta, si è consapevoli che si proviene dalle macerie, e allora non si possono pretendere trofei. Se capitano, benissimo, ma quello che dovrà esserci e che ci si aspetta, in questo senso esigenze altissime, da Tago Motta, dal suo staff, da questa nuova Juventus, ritrovata Juventus, sarà l'impegno, la professionalità, il lavoro e quindi il gioco anche bello, anche bello. Quindi, poi Giuntoli, ecco, magari avrebbe potuto annunciare prima l'esonero di Allegri, ma magari lo fa lunedì 6 maggio? Ci vogliamo dare un appuntamento lunedì 6 maggio? Perché? Perché onestamente, la partita con la Roma, faccio questa parentesi, e anzi, brevissimamente, poi ci torno a parte, perché sennò vado troppo per le lunghe, la partita con la Roma è decisiva, perché sia che si perde, sia che si vince, ma io direi pareggio equivale fondamentalmente a sconfitta. Quindi qualunque risultato, sia in una situazione o nell'altra, ed entrambe le situazioni possono portare ad anticipare i tempi, cioè sia l'aritmetica qualificazione della Champions che l'ulteriore rischio di non qualificarsi in tempo o aritmeticamente. Quindi, poi quello vediamo, altrimenti si aspetta fine maggio quello che sia, martedì 28 maggio, lunedì 27 maggio, vediamo, con magari tempistiche anche simili a quelle del 2019. E qui dobbiamo richiamare anche il 2019. Quindi, detto questo, siamo in attesa di quello che accadrà, ma è già successo. Abbiamo fatto un percorso importante, ripeto, in questa stagione, anche per far accadere determinati eventi, per provare a far accadere determinati eventi, dopodiché che cosa scrive Alfredo Pedullà stanotte, ieri sera, 23.59, con il post a mezzanotte 6 minuti su X, citandomi, e lo ringrazio, ma l'ho finalmente ringraziato privatamente, cioè finalmente ho preso contatti, infatti vi annuncio che appena vi darà disponibilità, forse anche tra un mese adesso non ve lo so dire, ma sicuramente Alfredo Pedullà sarà ospite su questo canale. Mi auguro che non mi dica di no, ma sono abbastanza fiducioso che mi dica di sì. Nel mio invito, non lo voglio mettere in difficoltà, ci mancherebbe, ma mi auguro che possa avere qualche minuto per una breve chiacchierata e intervista, che offriremo a voi, che offriremo a voi parlando di cose specifiche e anche per ringraziarlo, perché è già almeno la seconda volta che parla Berdy Mela, l'altra volta l'ha fatto su Live Bianconera, che pure sta coltivando tantissimo le notizie di Pedullà, ce le sta proponendo anche sul canale Telegram di Live Bianconera, con spunti sempre molto puntuali. Quindi siamo in questo momento in questa situazione, ma non perché ci siamo innamorati di Tiago Motta, vogliamo Tiago Motta, cioè sta succedendo. Nel momento in cui succede, noi prendiamo l'atto che succede e ci regoliamo, di conseguenza, con la differenza rispetto a chi ha mantenuto una certa etichetta, che qui si tratta di fare e rifare la Juventus, non di diventare Mottiani o di trovarsi un posto al sole, perché poi parleremo anche appositamente dell'oblio di determinati giornalisti e non solo giornalisti, chi ha voluto tenersi il posto al sole e ingraziarsi una certa tifoseria nella speranza dello scudetto, e poi mi sa che adesso si trova un po' in fuorigioco, si trova un po' nelle retrovie, forse farà un po' fatica a non sembrare ridicolo e incoerente nel riprendersi un'altra volta a una certa posizione. Poi ovviamente saranno i tifosi a decidere, a scegliere i tifosi poi chi più chi meno, ovviamente non sono un unico corpo, quindi ognuno pensa per sé a decidere a chi dare maggior credito, maggior riattività, maggior seguito, maggior attenzione nel momento in cui si torna a parlare di calcio giocato, ma con rispetto, con rispetto per chi ha guardato, con rispetto per chi ha ascoltato, perché passare dalle esultanze smodate per gli 1-0 brutti, sporchi e cattivi, al dire Allegri se ne deve andare, cioè devi mettere a posto veramente il cervello, devi veramente mettere a posto il cervello, perché chi ha detto che andava bene quella roba lì, è difficile che adesso possa dire che si come si gioca male, o magari solo perché si è pareggiato qualche partita, Allegri se ne deve andare, cioè secondo me certe persone non avrebbero proprio il diritto di dire, ma secondo me, non avrebbero proprio il diritto di dire che la guida tecnica va cambiata, per come si sono comportati quest'anno, però questo a me non interessa, perché interessa ad ognuno di voi di scegliere quello che vuole guardare, quello che vuole eseguire. Allora, scrive Alfredo Pedula, ce lo leggiamo ovviamente, vi metto il link in descrizione, ma è un articolo che ho già avuto ampiamente diffusione e gliene diamo ulteriore, nel mio piccolo, i gufi di Tiago Motta, datato primo maggio, in realtà due maggio. Tiago Motta è un grande allenatore, ha già vinto una Champions quando salvò l'Ospezia in condizioni quasi impossibili e malgrado avessi un direttore sportivo contro. A me già piace questo, perché dire che uno che ha ottenuto un obiettivo difficile, ha vinto, è come se avesse vinto una Champions, è giustissimo. Riprendiamo quello che dice Gasperini, ma in generale, in generale, cioè per noi queste sono coppe, questi piazzamenti, questi obiettivi intermedi, dice Gasperini, per noi sono come delle coppe, ma in generale, se tu raggiungi il tuo obiettivo, più difficile è, più importante è, più hai vinto, più hai vinto. Basta con questa storia che è bravo solo chi vince il trofeo, perché magari c'è chi non vuole vincere il trofeo, perché non va ad allenare squadre che possono vincere trofei, perché vuole semplicemente fare calcio, vuole fare l'allenatore di calcio. È da mediocre mettersi dalla parte del vincitore, stare sempre dalla parte del vincitore per dire, ecco, io ho vinto, è sventolare la bandierina. Adesso Diago Motta, promesso sposo della Juve, cosa che in conseguenza anche di quello che dice Diago Motta, io sostengo altrettanto da mesi, deve dare fastidio a qualcuno. Un pareggio contro l'Udinese, nel giorno della qualificazione in Europa, dopo 22 anni, evento di per sé enorme, e qui siamo a un'altra Champions, siamo a un'altra Champions, è stato venduto come chissà quale fallimento. Gli hanno fatto le pulci sulla comunicazione, si tratti di rosication, Celentano direbbe svalutation della correttezza mediatica, e sappiamo a chi ci si può riferire, ve l'ho mostrato anche in Propaganda Max, chi sono i gufi di Diago Motta? Io ne ho parlato, c'è stato anche un mio video su questo. Ora siamo addirittura entrati nell'ordine di idee che il Bologna non possa pareggiare contro l'Udinese, dovrebbe vincere le tutte e chiudere con 100 punti in classifica. Ma per i gufi è così, compresi quelli che si occupano della comunicazione di Diago ignorando quella di Allegri e Pioli, o forse, correggo, mi permetto, Alfredo Pedullà, non ignorando, ma conoscendola bene, trattandola pure, ma in maniera diametralmente opposta con totale ipocrisia. E stiamo sempre aspettando che qualcuno ci dica come è finita Roma-Bologna. Vorremmo sapere Roma-Bologna come è finita? Qualcuno ce la può dire? È interessante quella cosa, perché qualcuno non ne ha parlato. Peccato per loro, i gufi, che la comunicazione di Motta sia perfetta. Poi, non è che, allora, siccome adesso ci sembra perfetta, non si può criticare. Ripeto, davvero adesso Motta ci sembra bravissimo nella comunicazione. E io ve ne parlo da settembre del Bologna di Diago Motta, delle sue conferenze stampa, non tutti i giorni, non tutte le settimane, ma spesso l'ho fatto anche sul mio secondo canale, canale parallelo, Apsimout. Però è così. Per massimo rispetto, con massimo rispetto correttezza, verso il prossimo e inesistente ricerca di alibi. Soprattutto questo, rispetto correttezza. Poi, non devi essere sempre d'accordo. Ma rispetto correttezza sono fondamentali. Chi non ce li mette? Il suo futuro è scritto, bisogna solo aspettare. E lo diciamo anche per chi lo conferma al Bologna, come minimo tiene il dubbio, che possa restare, sui quotidiani, ignorando collaboratori che sui social dicono l'esatto contrario. Ora, io non so se qui, per due là si riferisce al procuratore di Diago Motta, che dovrebbe essere Canovi, o a qualche collaboratore dello staff del Bologna di Diago Motta, che siccome magari è su Instagram, io non lo seguo e non uso neanche Instagram, me lo son perso. Diamo che, comunque, diamo per notizia, per informazione fattuale, che c'è qualche collaboratore di Diago Motta, che dice il contrario rispetto alla sua possibile permanenza. Autentiche acrobazie. Cinque anni fa queste cose non accadevano, si mettessero d'accordo. Allora, sul cinque anni fa ci sono tante cose da dire, su come certi gestivano la comunicazione su Allegri nel 2019, e come la gestiscono adesso. E potrei anche fare riferimento, come ho fatto sempre su Absimaut, al discorso Moggi. Perché Moggi, oggi, critica giuntoli perché avrebbe dovuto informare Allegri direttamente in anticipo dell'intenzione di esonerarlo. Quando però poi Agnelli lo esonerò nel 2019, Agnelli esonerò Allegri nel 2019, a sorpresa, perché nessuno ce l'aspettavamo veramente in pochissimi, avevamo il sentore, ma ce lo si aspettava in pochi, lì le critiche di Agnelli mi pare che non furono fatte. Aggiungo io questo come contenuto all'articolo, ti vedo là, mi permetto di, mantenere almeno una linea di coerenza. Se Tizio scrive una cosa, non si può sui social sostenere l'esatto contrario all'interno della stessa parrocchia. E qual è la parrocchia? Quella parrocchia? Quella che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. I gufi, senza rispetto di Tiago Motta, si stanno sbattendo molto, ma resteranno isolati, esattamente come chi pensa che la Juve debba aspettare la fine della stagione per pianificare il futuro. Ti pare che possono aspettare la fine della stagione? Io su questo ve lo dico da quando non c'era la minima speranza che Allegri andasse via. Da quando non c'era la minima speranza che Allegri andasse via, io vi ho detto, guardate che è giunto, si sta dicendo delle cose molto chiare. Il rinnovo non c'è, e se il rinnovo non c'è, è fuori. Avevamo sempre detto che Allegri senza rinnovo non sarebbe rimasto, per quanto lui farebbe forse carte false, perché alla fine quello che gli interessa è mantenere il contratto per la parte economica più che altro. Però fondamentalmente quella era l'idea, senza rinnovo non si va da nessuna parte. Poi si capisce che rinnovo non c'è, e no ma forse lo tengono, ma che tengono? Cioè è chiaro ormai come il sole, poi manca un margine, manca uno 0,1%, manca l'1%, quello che volete, per me siamo al 100% ed oltre, però per me, per la mia convinzione, per la mia convinzione, non sto dando percentuali a nessuno, ognuno pensa quello che vuole, per la mia convinzione, e lo dico da mesi, e lo dico da diverse settimane, Allegri è fuori, fuorissimo, già deciso, e stiamo capendo tante cose, però appunto la parrocchia la conosciamo, quindi, e quindi non si va a fine stagioni a pianificare il futuro, quando aggiunto ridici a tempo debito, fa capire, che le tempistiche non possono essere quelle, di sedersi a fine giugno, a inizio giugno, fine maggio, a inizio giugno, per dire allora che facciamo, che fai, vuoi restare, e nel frattempo, il mercato che hai già dovuto fare, il waltzer di allenatore, la Juve rimaneva senza allenatore, così, proprio dei, degli impresentabili, li abbiamo già avuti, degli impresentabili, alla dirigenza della Juventus, però, magari, cioè, non è la regola, cioè, è difficile che ci siano sempre, di questo livello basso, di managerialità, di gestione, di gestione dell'azienda, la decisione è stata presa, mesi e mesi fa, e chissà quanti mesi fa, lo diciamo con il massimo rispetto, nei riguardi di chi, continua a scrivere, che il Bologna ha chance di rinnovo, e che il Milan è tornato, sull'allenatore che respira e trasmette calcio, ma può essere che il Milan ci è tornato, magari il Milan ha avuto dei contatti, noi questo non lo sappiamo, ma è in ritardo, è dietro, il problema è chi dice, Milan prendi Tiago Motto, oppure Tiago Motto vai al Milan, oppure secondo me, il Milan prende Motto, perché sono strategie anche di destabilizzazione, della parrocchia, della parrocchia, poi, il tempo stabilirà distanze e verità, non resta che aspettare ancora un po', ma veramente poco, ma veramente poco, oggi è 2 maggio, siamo entrati nel mese dell'esonero, come ha detto qualcuno, siamo entrati nel mese dell'esonero, signori, benvenuti, buongiorno, rallegratevi, certo, sarà poi difficile spiegare, quando per mesi e mesi, si mantiene la stessa opposta posizione, ma non è un problema nostro, e il Pedullà su questo si smarca, poi, ovviamente non deve essere Pedullà a dire, non sono stato bravo, criticatemi, mea culpa, lo farà per conto suo, è ovvio che, lui pensa, di seguire la sua linea, opportuna, corretta e coerente, come ognuno di noi, però, mi sa che ha abbastanza ragione, è un po' difficile dire, soprattutto su Allegri, su Tiago Motta, che Pedullà si è sbagliato su qualcosa, anche per come le raccontano, e qui veniamo, proprio al discorso finale, su quello che vi dicevo, chi dice chi, chi c'è dietro le notizie, sostanzialmente, finiamo con, quelli che dicono, Allegri ha fatto miracoli, dovrebbero lo raggiungere, Motta, santo subito, gli giumentini, nella stragrande maggioranza, invocano il giorno della liberazione, citazione, Simone Absim, con i suoi video, sempre coerenti e ficcanti, lo ringraziamo per le belle parole, nei nostri riguardi, e lo aspettano come l'aria, il giorno della liberazione, per respirare, anche i gufi, senza rispetto, di Tiago Motta, se ne faranno una ragione, insomma, è un po' una notizia, e un editoriale, già detto, insomma, ringrazio per la citazione, che ho meritato, non ho meritato, è per voi, cioè, nel senso, non è una cosa, che per me, è fondamentale, per me è fondamentale, fare un buon lavoro, di conseguenza, capitano anche queste cose, è come il discorso dei trofei, se tu lavori bene, sei forte, poi vinci, poi arrivi a vincere, ma se tu invece punti alla vittoria, utilizzi tutti i mezzucci possibili, per arrivare alla vittoria, e quindi perdi tutta quanta la sostanza, e diventi come, un imbroglione, diventi come un truffatore, diventi come un ladro, come? diventi, se fai, non mi sto riferendo a nessuno, ora, brevemente, aggiungo soltanto questo, è chiaro che, se, per un là, dice queste cose da mesi, quale può essere il suo informatore, non voglio adesso fare le pulce, tra virgolette, ma deduciamo, no? Da che parte sta? Giuntoli, è parecchio ermetico, la dirigenza della Juventus, che sta cambiando paradigma di comunicazione, pure, non escono spifferi, e lo capiamo da chi, lo capite molto bene voi, che seguite un po' tutti, soprattutto da quei giornalisti, che hanno sempre parlato solo di Juve, e che, curiosamente, da qualche mese, ne sanno un po' meno, anzi, forse pure da un anno, dicono molte meno cose, o addirittura dicono, potrebbe andare così, ma potrebbe andare pure al contrario, roba che un giornalista, così lo sa fare chiunque, anche una penna, anche una sedia, non c'è bisogno neanche di scomodare l'intelligenza artificiale, proprio lo può fare, anche un oggetto inanimato, può fare il giornalista, e dire, può andare così, ma può andare anche al suo contrario, attenzione a quello che può succedere, questa sta diventando un po' la situazione, e allora, da quale altra parte, può far capire, il procuratore di Tiago Motta, lato Tiago Motta, e allora attenzione a questo, perché se Tiago Motta, fa sapere, tramite intermediari, cioè la notizia arriva dal lato suo, che lui ha un accordo con la Juve da mesi, ma allora scusate, ma quale dubbio possiamo ancora avere? Perché la Juventus può essere che, non voglia far sapere, non si voglia scoprire, il Bologna ancora meno, che interesse ha il Bologna, di dire dove va a Tiago Motta, il Bologna può dire una sola cosa, gli abbiamo proposto il rinnovo, barra non glielo abbiamo proposto, ha accettato, barra ha rifiutato, perché lui, a Tiago Motta scade il contratto, il 33 giugno 2024, e aggiungo una cosa, come per i calciatori, anche gli allenatori possono firmare dal primo gennaio, anche gli allenatori possono firmare dal primo gennaio, quindi può darsi che da qualche parte, ci sia proprio un contratto definitivo, definitivo, come quando si prendono i giocatori a parametro zero, e vengono annunciati nel mercato di gennaio, o a febbraio, dal primo luglio, e fanno proprio gli annunci ufficiali, e in questo caso l'annuncio ufficiale non viene fatto, ma pagare l'accordo è già firmato, è già tutto definitivo, e allora siamo a questo, per cui chi può, fa sapere, guarda che è fatta, Tiago Motta va alla Juve, e si arriva a dire questo, ma l'informazione è lato Tiago Motta, e se l'informazione per Pedula è lato Tiago Motta, si capisce anche perché, chi non ha l'informazione lato Tiago Motta, perché si è sempre abbeverato alla fonte Juve, anzi alla fonte Allegri, non ha saputo dire la stessa cosa, chi è che si è abbeverato sempre alla fonte Juve, barra Allegri, anzi, c'è qualcuno che si è sempre abbeverato alla fonte Juve, quando la fonte Juve corrispondeva ad Agnelli, quando la fonte Juve ha cominciato a non corrispondere più ad Agnelli, e badate bene che Claudio Albanese è stato mandato via, è andato via alla fine della scorsa stagione, uomo di Agnelli nella comunicazione della Juventus, sicuramente figura chiave, allora si è perso un po' la strada, che cos'è la Juventus in questo anno? Abbiamo imparato a capire, pure prima, che questa non è la Juventus, è l'Allegrentus, era l'Agnellentus Allegrentus, o chiamatela come vi pare, ma per far capire il concetto, quindi chi è che fa passare certe informazioni? Sono rimasti col cielo in mano, capite? Sono rimasti che prima avevano le informazioni perché c'era una gestione, è cambiata la gestione, non hanno più le informazioni, per cui sono sembrati molto sorpresi, al di là di gufare Tiago Motta, sorpresi che veramente Allegri potesse essere via, e ci stanno arrivando con grandissima difficoltà ad ammetterlo, tant'è che io ve lo sto dicendo, sono crollate tutte le resistenze, è crollato questo, è crollato quest'altro, è crollato quest'altro, adesso persino questo giornalista, questo giornale, dice chiaramente che Allegri è fuori, perché? Perché se ti vai da Beverano alla Fonte Juve, non ne viene a sapere, se ti abbeveri alla Fonte Allegri, peggio ancora, che cosa puoi dire? Puoi dire che non gli hanno offerto il rinnovo, che Allegri è contrariato, perché non gli hanno offerto il rinnovo, perché non gli hanno fatto sapere le cose, e chiaramente chi sta parlando, chi ha dato le informazioni a Moggi, chi può avere detto a Moggi, che Allegri ha saputo da Galliani, che Giuntoli lo esonera, scusate, è già nella frase, c'è tutto, la catena qual è? Giuntoli dice a Galliani, Galliani dice ad Allegri, Allegri dice a Moggi, o chi per Allegri, non c'è che Moggi ha parlato con Giuntoli, perché se Giuntoli non ha detto ad Allegri che lo esonera, Giuntoli andava a dire a Moggi, capite qual è il discorso, quindi cosa c'è dietro questa notizia di Pedullà? Evidentemente lato Tiago Motta, io dico lato Tiago Motta per dire, lui, un suo procuratore, gente che lo conosce, poi sicuramente Pedullà ha fatto i suoi riscontri incrociati, con anche la dirigenza del Bologna, con la dirigenza della Juventus, si è interfacciato con tutti, ma indubbiamente, però chi è che ti dà poi quella notizia, ti dà quella convinzione? probabilmente l'allenatore in questo caso, chi ha già l'accordo, gli altri si guardano bene dal dirlo, non possono o non vogliono ancora dirlo, ora per chiudere, perché questo è il punto, fiducia, amici, fiducia, non speranza, non speranza, la speranza è deresponsabilizzante, è passiva, è apatica, la speranza è, mi metto qui, ho paura, fai tu qualcosa, che qualcuno intervenga, che qualcuno mi aiuti, no, fiducia, fiducia, in avanti, proattività, in avanti, proprio come il calcio che vogliamo vedere, fiducia, con fiducia, io vincerò la partita, con fiducia, abbiamo vinto questa partita, Allegri è fuori, siamo entrati nel mese dell'esonero, o forse nella settimana dell'esonero, non intesa come questa settimana, che va da lunedì a domenica, ma intesa come questi sette giorni, quindi diciamo dal primo maggio, e quindi vediamo, dopodiché Tiago Motta, promesso sposo, ci siamo, e abbiamo anche una possibile motivazione, argomentazione, ragionamento per cui è proprio lui, e ce lo vengono a dire, ed è chiaro in questo momento, perché è chiaro, quindi da chi proviene l'informazione, e perché invece per qualcun altro, come scrive giustamente Pedullà, c'è grande difficoltà nel dirlo. Grazie per la vostra attenzione, grazie ancora a Pedullà, grazie a voi, se continuerete a seguire, vi prometto come impegno, cose interessanti, sui miei canali, questo è anche il secondo, anche per una stagione, che sarà bellissima, come giustamente ha detto Allegri, ogni tanto dice pure cose giuste, anche con tante cose da fare, e non fare, in termini di oblio, ignorare certe cose, ma su quello poi, ci organizzeremo. Buon dibattito nei commenti, ci vediamo molto presto, e per il calcio, voglio un allenatore.